Sindaco Brenca, si ritorna a parlare della costruenda Fondovalle Galore. Nel 2012 la soprintendenza aveva disposto l'immediata sospensione cautelare dei lavori, quindi poi c'era stato il ricorso al TAR prima e il Consiglio di Stato poi che hanno annullato il provvedimento della soprintendenza. Arrivato a questo punto si pensa che i lavori vengono ripresi, invece quali sono le novità? Purtroppo non piacevoli. Purtroppo ad una condizione di carattere generale che presenta in ravvisa già degli elementi ostativi per la ripresa, è un altro aspetto particolare che si frappone ad una soluzione o ad una ripresa a breve termine dei lavori di questo tratto della Fondovalle Galore. Ed è sostanzialmente, pochi giorni fa infatti è stato notificato al Comune di Aquara e alla provincia un'impugnativa per rievocazione da parte dell'Avvocatura dello Stato, per conto chiaramente della soprintendenza attesa, l'annullamento della sentenza del Consiglio di Stato che aveva concluso una vicenda giudiziaria favorevolmente per la provincia, quindi per la ripresa dei lavori. Quindi un'altra tegola che cade su una speranza che ormai è diventata, quella della ripresa, del completamento e del primo lotto della Fondovalle Calore Sele, che ha impedito, impedisce una ripresa immediata. L'azione congiunta di voi sindaci questa sera qui in Comunità Montana è atta a fare cosa? Perché chiaramente i sindaci e i rappresentanti del territorio sentono e avvertono la necessità dell'importanza che la Fondovalle può dare come contributo a un rilancio socio-economico e allo sviluppo dei nostri territori. Anzi io credo che rappresenti l'ultimo baluardo per poter dare slancio, per poter rilanciare i nostri territori, altrimenti voglio dire invece di spopolamento e di desertificazione. Quindi l'incontro di questa sera va in questa direzione per dire che noi sindaci del territorio ci siamo per la difesa degli interessi delle nostre collettività che meritano un'attenzione diversa anche da parte della politica ai livelli più alti. Insomma non possiamo essere abbandonati, l'incontro di questa sera vuole significare un appello a dare la giusta attenzione, ad una ripresa, un impegno da parte della politica ai livelli alti di superare le problematiche che possono far porsi a questa opera di fondamentale importanza. Quindi lo spirito non è quello di accusare nessuno, ma lo spirito è quello di fare un appello a tutti per restituire dignità ai nostri territori.